un piccolissimo effetto da una parte produce effetti avalanga dall'altra parte ed è tutto connesso si prevede che se si dovessero fondere i ghiacci di himalaya un milione di persone rimanono senza acqua perché l'acqua potabile inizierà a diventare molto scarsa se si fondessero i ghiacci dell'agroinlandia il livello del mare si alzerebbe di 7 metri un milione di persone sulle coste perderebbero le abitazioni è tutto un disastro e le soluzioni non esistono non c'è una bacchetta magia le soluzioni sono tutti i settori il settore agroalimentare tutto occupa il 30 per cento il settore energetico circa il 30 per cento lo spreco alimentare aumentato da linea di 60 nel 40 per cento si parla di 8 10 per cento delle emissioni globali cioè semplicemente se tu intervenissi su questi piccoli settori riusciresti a diminuire tantissimo l'impatto non è un settore preciso che va attaccato non è in un determinato settore che vanno a concentrare tutte le energie ma sono in tutti questi settori dobbiamo utilizzare tutte le energie tutte le tecnologie che al momento abbiamo e ce ne abbiamo per risolvere questa situazione di emergenza